E anche per Giulia De, Lellis e Andrea, da amante le vacanze stanno volgendo al termine. Per loro è stata un'estate veramente, molto bella dove hanno veramente imparato a conoscersi. Ricordiamo che Andrea e Giulia si sono conosciuti a uomini e donne e dopo un percorso fra alti e bassi hanno trovato veramente un grande sentimento. Sinceramente e personalmente io su questo non ho mai avuto un dubbio che fosse uno. Praticamente Giulia e Andrea sono andati a convivere fin da subito. Infatti nonostante Andrea da amante sia stato impegnatissimo fin da subito, in serate, e altro, ha portato tutti i giorni la sua Giulia con sé. A vacanza e a lavoro sempre insieme, sempre bellissimi, sempre innamorati. Con lui che gli ha già fatto conoscere i suoi genitori e viceversa. Stanno talmente bene insieme? Che insomma sia lei che lui non hanno avuto problema a pronunciare durante questa estate la parola matrimonio? Anche se ovviamente si vogliono conoscere ancora un pio meglio? Andrea da amante e Giulia dell'Ellis non sono andati a uomini e donne perché? Attualmente Giulia dell'Ellis e Andrea da amante sono in vacanza in Sardegna. Vi dico questo anche per spiegarvi il motivo per cui Giulia e Andrea non sono andati alla prima registrazione di uomini e donne? Non sono andati perché erano le altre cose affacendati tutto qui. Il loro amore è intatto. Una prova. L'ultimo post di Giulia dell'Ellis su Instagram. Guardate da sole come se lo sta guardando.